Luca Mortis, la prossima fatica del regista gallese Peter Greenaway, è ufficialmente pronta per le riprese. Il maestro, considerato uno dei migliori cineasti contemporanei, è fresco della premiazione durante l'ultima edizione del Luca Film Festival ed è rimasto folgorato dalla nostra città, tanto da decidere di sceglierla come location per il suo ultimo lavoro. L'opera di Greenaway racconterà la storia di uno scrittore che prende un anno sabbatico per visitare Lucca. A vestire i panni del protagonista sarà l'attore statunitense Morgan Freeman, ma Peter Greenaway sembra non essere il solo regista che si sente stimolato dagli ambienti e dai paesaggi lucchesi, tanto che l'amministrazione comunale e l'assessore Remo Santini hanno deciso di proporre l'apertura di uno sportello dedicato al mondo del cinema. L'intenzione è quella di attrarre ed invogliare i produttori cinematografici per accendere le loro telecamere sulla città.